Ad Agropoli, in prossimità della porta del centro storico, sono stati piantati sugli scaloni negli appositi spazi degli alberi, incrementando la bellezza del posto. Il promotore dell'iniziativa è il signore Eliseo degli Paoli, cittadino di Agropoli, residente del centro storico, che con la sua buona volontà e grazie alla donazione di alcuni paesani, ha fatto sì che si potessero comprare gli alberi e abbelire tali scaloni. Queste piante pagate dai cittadini di Agropoli sono costate circa 2.000 euro, di cui 60 euro per il trasporto. I cittadini, anche quelli residenti all'estero che hanno voluto contribuire all'iniziativa, hanno pagato con bonifico bancario direttamente sul conto del vivaio. Come gruppo di cittadini siamo molto soddisfatti che l'iniziativa sia andata a buon fine, commenta Eliseo degli Paoli, grazie anche ai tanti agropolisi che vivono fuori e all'estero, ma che hanno a cuore la città di Agropoli. Ringrazio anche i due consiglieri comunali, Verrone e Coppola, che hanno contribuito all'acquisto delle piante. Poi Eliseo lancia un invito alla cittadinanza. Chiedo a tutti quelli che abitano il centro storico, ed anche a quelli che non lo abitano, di adottare le piante. Il gesto sarebbe molto gradito a madre natura. Ognuno di noi, quando esce di casa, può riempire una bottiglia di acqua ed usarla per innaffiare una pianta. Se poi tutti i genitori vogliono educare i figli ad amare e rispettare la natura, possono recarsi sugli scaloni con i bambini ed innaffiare con loro più piante possibili per educarli al rispetto dell'ambiente.